E' evaso da parecchie prigioni tu, vero? Alcatrazza è stata fatta per tenere tutte le uova marci in un paniere solo. Qualcuno ha cercato di scappare. Alla maggioranza è stata ripresa. Chi non è stato ripreso è stato ucciso. O è annegato nella baia. Io forse ho trovato un modo per uscire. Io ci sto. Anche io. Voglio andermene. Per gli imperdibili, Clint Eastwood in un film di Don't See You. C'è più di un miglio da fare a nuoto per arrivare a terra. E con le correnti che ci sono è come se fossero dietro.